L'intesa tra l'amministrazione comunale di Realmonte e il proprietario Ferdinando Shabarrà per la gestione del bene è vicina. Il sindaco Sabrina Lattuca pensa a un biglietto di ingresso. Il ricavato sarà destinato alla manutenzione della Scala dei Turchi, candidata a diventare patrimonio dell'UNESCO. Sono già andati da un notaio due avvocati che decideranno la prossima vita della Scala dei Turchi, l'imponente scogliera di Marna Bianca Picco sul mare di Realmonte, che da anni è contesa dal proprietario delle particelle catastali su cui ricade e il comune. Ferdinando Shabarrà, oggi proprietario del sito tra i più belli di tutta la Sicilia, ha deciso di cedere in maniera gratuita, mediante il formale atto della donazione. C'è un però, il comune di Realmonte deve prima pagare gli oneri del lungo processo che ha visto condannato a una multa di 13.600 euro lo stesso proprietario della Scala, imputato per occupazione di suolo demaniale, violazioni in materia di sicurezza e tutela dei beni ambientali, condizione indispensabile ai fini della donazione. Per molto tempo non sono state messe in atto azioni significative volte alla tutela e alla conservazione del bene naturalistico e paesaggistico. Diversi gli atti di vandalismo, che spesso hanno lasciato dei segni indelebili sulla Marna Bianca. L'acquisizione del bene potrebbe permettere di garantire la sicurezza del sito.